Le istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo avranno a disposizione per il momento circa 49 milioni in merito all'unità di investimento per la scuola 4.0 relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per intenderci si tratta di soldi messi a disposizione per cablare aule, formare docenti, portare la banda ultralarga a scuola, sostenere la digitalizzazione di segreterie e pagamenti legati alle attività scolastiche ed innovare gli spazi didattici. Una situazione favorevole che la proietta nella dimensione futura. Così infatti si chiama la cornice in cui si sviluppa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Istruzione. Ad oggi le scuole abruzzesi sono state destinatarie di fondi per tre finalità. Il Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi e sono destinatarie tutte le istituzioni scolastiche statali per un importo di circa 30 milioni. Poi c'è il Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs per la realizzazione di laboratori per le professioni del futuro e sono destinatari gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i licei per un importo di circa 10 milioni e mezzo di euro. E poi c'è la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica per un importo di circa 9 milioni. Si tratta di finanziamenti ingenti, spiega Massimiliano Nardocci, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che mai prima d'ora avevano visto come destinatari le scuole di ogni ordine e grado. Per questo, e in considerazione della complessità degli interventi, l'Ufficio Scolastico Regionale si è attivato per assicurare supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche della Regione, promuovendo conferenze di servizio provinciali che si sono tenute nei giorni scorsi. Inoltre è stato costituito un gruppo di supporto che opera stabilmente sull'intero territorio regionale, col coordinamento funzionale dell'unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.